I motori diesel da un po' di tempo a questa parte sono sotto la lente d'ingrandimento per quel che riguarda le emissioni dopo anni invece in cui molte persone hanno scelto un po' in automatico a prescindere i diesel al posto dei motori benzina pensando ai consumi al tipo di prestazioni ma non valutando anche invece altri parametri importanti al momento dell'acquisto come i chilometri percorsi o il tipo di utilizzo e quindi oggi nella situazione attuale che tipo di motore bisogna scegliere soprattutto su un'auto da famiglia Prendiamo come esempio per rispondere a questa domanda la Mazda CX-5 che è proprio un'auto da famiglia 3.0 per dirla con l'espressione che il mio collega Adriano ha usato durante la sua prima prova di questo modello che infatti appartiene alla categoria dei SUV di mezzo cioè né troppo piccoli né troppo grandi quelli che hanno sostituito con il passare degli anni le station wagon e poi le monovolume nelle preferenze di chi sceglie un'auto per usarla con la famiglia E poi visto che parliamo di motori Mazda ha portato avanti da molto tempo sia sul diesel che su benzina la filosofia Skyactiv e quindi tutta una serie di tecnologie per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni e questo rende più equilibrato il confronto che stiamo facendo con queste due motorizzazioni Le auto che vedete in questa prova hanno tutte e due i motori più potenti tra quelli disponibili sia a benzina che a gasolio che rispettivamente sono il 2005 da 194 cavalli e il 2002 turbodiesel da 175 cavalli entrambi a 4 cilindri con trazione integrale e cambio automatico che sul diesel è un optional a pagamento Il tutto si traduce in una differenza di prezzo di circa 2000 euro a fuori del benzina sempre a parità di allestimento, il più ricco è Exclusive con in più però degli equipaggiamenti dedicati come un alternatore, un condensatore di nuova generazione che sono in grado di recuperare l'energia elettrica con l'auto in movimento e di restituirla quando ce n'è bisogno per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni Pertanto per pareggiare il costo maggiore del diesel ci vuole un po' di tempo e dovete percorrere un certo numero di chilometri il tutto considerando ovviamente anche i consumi e i costi di gestione e manutenzione per i due motori In media con questo benzina in città si fanno 9 chilometri con un litro fuori città 12 al litro guidando tranquilli su un percorso misto mentre dandoci dentro si scende anche a 7 con un litro e con un'andatura costante sulle statali si fanno 14-15 chilometri con un litro in autostrada i 10 per una media generale di 10-11 chilometri con un litro circa 9,5 litri su 100 chilometri Questo motore 2005 tra l'altro ha il sistema che può disattivare due cilindri su quattro in condizioni di guida costante come ad esempio in autostrada per migliorare i consumi Con il diesel invece in città si sta sui 14 chilometri con un litro Nel misto si oscilla tra i 16 e i 18 al litro superando anche i 20 in statale e in autostrada si fanno 13 con un litro per una media di 16 chilometri con un litro cioè intorno ai 6 litri su 100 chilometri Il costo per il bollo auto e quelli per la manutenzione programmata in officina sono simili per cui dopo un po' di calcoli ho visto che la CX-5 a benzina non viene a costare di più di quella diesel tenendo la macchina per quattro anni oppure facendo 15.000 chilometri il diesel comincia a convenire a partire dal terzo anno o dal secondo facendo almeno 20.000 chilometri all'anno Il ragionamento tra l'altro non cambia sostanzialmente anche paragonando altri motori della CX-5 che ho provato in passato cioè il 2000 benzina da 160 cavalli e il diesel da 150 perché in base alla mia esperienza i consumi sono proporzionali e i costi di gestione sono allineati Ma parliamo anche di come va una macchina così con i due tipi di motore perché a questo punto la scelta può dipendere ovviamente dopo averli provati entrambi in un test drive in concessionaria proprio da come il carattere cambia con il diesel rispetto al benzina Il motore diesel è meno isolato acusticamente rispetto al benzina e il convertitore idraulico del cambio automatico slitta di più quando si riaccelera dopo un rallentamento Il benzina invece ha meno ripresa del diesel e la logica di funzionamento del cambio in automatico a volte insiste troppo nel tenere il rapporto quando invece ci starebbe bene inserire una marcia più alta Sempre il benzina poi ha una funzione sport che il diesel non ha per selezionare una mappatura più aggressiva del motore e che in automatico fa cambiare le marce a un numero di giri più alto Su tutte e due le motorizzazioni per cambiare manualmente spingendo in avanti si scala e tirando si sale di marcia con la logica corretta come sulle auto da corsa Molto piacevole su tutte e due anche la risposta fluida dello sterzo e un assetto tra i più precisi in questa categoria di SUV compatto ma allo stesso tempo comodo sulle buche anche perché tra le cose che i tecnici hanno curato nel programma Skyactiv c'è il contenimento del peso che per il benzina come dati dichiarati sta sotto i 1500 kg e sotto i 1600 per il diesel Un'ultima cosa da tenere in considerazione è la stima del valore residuo dell'usato per i due tipi di motore cosa che dipenderà sempre di più da dove si vive visto che la tendenza ormai alle grandi metropoli sembra essere quella di limitare progressivamente la circolazione dei diesel discorso diverso invece per chi vive in provincia dove magari mediamente si tiene la macchina anche per più anni Insomma, come abbiamo visto sulla CX-5 quindi su un'auto dove le dimensioni, gli equipaggiamenti e le aspettative a livello di doti stradali crescono rispetto a macchine più piccole il motore benzina regge il confronto con il diesel sul piano economico se non dovete fare troppi chilometri direi quindi che per questa Mazda la scelta si può fare sostanzialmente sul tipo di risposta che vi piace avere dal motore perché per il resto le due versioni sono allo stesso livello quindi il diesel è più grintoso in basso ma anche più ruvido e sul benzina il cambio automatico è più preciso siete più isolati dall'esterno ma dovete insistere di più sull'acceleratore quando volete alzare il ritmo Tutto ebbe inizio con Ma oggi è il momento di fare un grande passo Perché il futuro è di Omniauto sta cambiando ma noi rimaniamo sempre gli stessi Motorone.com is coming Grazie a tutti.